Nei 5 Stelle Di Maio ufficializza la sua candidatura a Premier, faremo risorgere l'Italia. Non sono indagato per fatti gravi, ma le nuove regole creano malumori nel Movimento. Francesco Maesano e Claudia Mazzola. Oggi ho accettato la mia candidatura a Premier per il Movimento. Andiamo a Palazzo Chigi e facciamo risorgere l'Italia. Luigi Di Maio rende ufficiale quello che già da mesi era un dato assodato tra i 5 Stelle. È in corsa per essere il nome da proporre per Palazzo Chigi alle prossime elezioni e diventare dunque, con le nuove regole annunciate ieri da Grillo, il nuovo capo politico del Movimento. Con lui i vertici 5 Stelle che nel 2013 gli affidarono, da appena 26 anni, la vicepresidenza della Camera che aspettava al gruppo. È normale che il futuro premio del Movimento 5 Stelle sia anche il capo della forza politica. Ci prepariamo per andare al governo con un programma, una squadra, e lui ne sarà responsabile e la dirigerà. Ciò nonostante Beppe Grillo rimane sempre il garante del Movimento 5 Stelle. Di Maio ricorda i dieci anni di militanza nel Movimento e cita Gandhi. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. E a chi ne critica la candidatura per le due querele a suo carico risponde chi è indagato per reati gravi non è candidabile. Se poi si è indagati come atto dovuto è evidente a chiunque che la cosa cambia. E sulle regole il blog di Grillo torna all'attacco della stampa. Se anche gli altri partiti adottassero il nostro regolamento non candiderebbero più nessuno. Grillo che lascia le chiavi del Movimento in mano a qualcun altro agita il partito, soprattutto l'ala degli ortodossi che fino ad oggi si sentiva protetta proprio dal fondatore. Dal Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, il posta al veleno del deputato Gallo pubblicato all'alba che dà voce ai malumori interni e che poi lancia la sfida. Il candidato premier rinuncia a fare il capo politico che deve restare Grillo. La base si divide contro la candidabilità di chi ha procedimenti penali anche l'ex 5 Stelle nuti. Io indagato, sospeso. Di Maio indagato, non sospeso e premier. Gallo ricorda i poteri del capo politico, praticamente quelli di un monarca da cui dipende tutto, dalla linea del partito alle sanzioni e alle ricandidature. Tema spinoso alla vigilia delle politiche. Duri e puri lavorano per cercare un nome che al momento non c'è. Fico, Morre e Sibilia si tirano indietro. C'è il timore ad esporsi. La disponibilità a concorrere equivale a sfidare il capo politico che verrà a scelta, che potrebbe pesare sul futuro del competitor. Io ho dato fiducia a Beppe, commento a un parlamentare, ma non ho nessuna intenzione di darla a Luigi. Presto, per parlare di scissioni, aspettiamo di vedere cosa succederà in Sicilia, ragionano i dissidenti. Qualora le amministrative si rivelassero un flop per il movimento, allora bisognerà aprire una riflessione.